Micro alghe che catturano l'anidride carbonica dispersa nell'aria e producono ossigeno. Nel Senese, tre vecchi stabilimenti industriali si sono riconvertiti e in 100 km di tubi di plexiglass, dove scorre acqua osmotizzata e ozonizzata, si coltivano le alghe che mangiano l'anidride carbonica. Ma si sperimentano pure leds che riproducono lo spettro solare, cogeneratori elettrici e caldai innovative. È l'esperienza dell'azienda Nature Essence che sbarca in regione. Esempio di come la ricerca applicata può essere volano dello sviluppo economico dei prossimi anni. Meglio ancora, si ha anche a che fare con l'economia verde sostenibile. L'accordo firmato con Regione Toscana e comuni di San Gimignano, Barberino, Tavarnelle e Poggi Bonsi prevede una collaborazione fino al 2024 per favorire lo sviluppo e il trasferimento tecnologico in modo da creare una filiera e un indotto produttivo locale. Dobbiamo essere un po' allevatrici, ecco, e questo è il senso di questo primo protocollo con un'azienda vivace che ha già proposto soluzioni tecnologiche assolutamente e grandemente innovative. Le opportunità che questo protocollo ci porta davanti sono importanti, perché noi siamo nell'area di Cusona in particolar modo dove l'azienda ha sede, siamo un distretto produttivo importante, però la dinamica della sostenibilità, della transizione energetica è una dinamica che abbiamo messo nelle nostre agende fin da subito. Poi è chiaro che la pandemia ha complicato notevolmente le cose. Grazie. Grazie. Grazie.